Con un colpo di Stato è diventato Presidente del Consiglio, con un colpo di Stato, lei che era socialista e lavorava l'Avanti, lei lavorava l'Avanti ed era socialista e questa battuta, Craxi non ha mai fatto nessun colpo di Stato. No, colpo di Stato, però l'Ergife si prese un partito con un po' di... No, 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 quello era un partito, quello era un partito e pagava magari anche il suo stipendio l'Avanti. Io vorrei capire il concetto di democrazia di Brunetti.